Musica Dovete ascoltarmi, ho bisogno che facciate attenzione Sta arrivando, Cletus Cassidy è vivo ed è più potente di quanto potessimo pensare Una setta lo ha riportato dall'al di là E l'ha fuso con un simbionte che apparteneva ad un antico dio chiamato Knull Knull ha creato i simbionti e il loro dio l'ha impirigionato nel loro pianeta Cletus Carnage sta cercando di liberarlo Sta cercando di scatenare Knull nel nostro mondo Tutti, chiunque avendo stato un simbionte ha ancora un pezzo dentro di sé Sto Carnage riesce come a tutti i fan-man a ricomporre il simbionte Connettendosi all'alveare e svegliare Knull Vi state ascoltando? Capite cosa significa? Dobbiamo rivolgerci all'X-Man, agli Avengers, ai Fantastic Four, a Spider-Man Perché, Eddie? Perché facciate un team-up per combattere questo estere? Perché possano nascondersi! Siamo tutti bersaldi! Un po' meno drammatico Eh? Già, penso che chiunque sia meglio che lo mandi all'FPA Cioè, quel tizio era Venom, giusto? Prima di ricomparire New York a sbraitare, intendi? Eh, l'hanno beccato quando cercava di entrare nella vecchia torre degli Avengers Pare fosse patetico Insomma, come se volessi farsi prendere Giusto! Allora, che ne pensi? Eh, via! Già, poverino! Eh, che ragazzi sì! Lo tirarono fuori di... Loro! Se devono! Ok? Eh, dove l'avete... Dove l'avete messo? Nel raft? A Ravencroft! Cosa? No! Non ha più quella rovaccia aliena addosso! E sono un pazzo qualsiasi adesso! Eddie Brock è tutto solo Bene, bene! Guarda chi c'è qui! Sto alla larga, Price! Oh, figlia! È il modo di parlare a un vecchio amico! Ti prego, Eddie! Chiamami lì! Anzi, sai quel che è bene per te? E' meglio che mi chiami come mi chiamano tutti qui dentro! Sì, cioè... Indovina! Ah! Sei fuori di testa? Ah! Ah! Scusa! Dio! È così stupido! Vuoi morire, Brock? Lo sai chi cazzo sono? Ah! So! Chi pensi di essere! Ma non sai, Venom! Ti prego, Dio! Non prendere il mio simbionte! Morirò senza di lui! Ah! Davvero? Che buffo! Sorridi, papà! Stai per diventare una star! Tutti vedranno! Tutti nel mondo! Sapranno cosa ha fatto Eddie Brock qui! Proprio così! Radunatevi ragazzi! Correte! A nascondervi! Correte! A nascondervi! Non potete nascondervi nel bugio! È tutto attorno a voi! Sta arrivando! Dio sta arrivando! Davvero! Davvero! Giuri in giurello! Perché non arriva! Che ne dite un po' di? Carnage! Ah! Meno due! Ne mancano ancora così tanti! Ma dove? Dove iniziare? Gli Avengers? No! Ancora! Doxin? Forse! Sarbbe giusto! Quell'altro! Di Osborn? Forse! Quei mocciosi della fondazione della vita! Sì! Forse loro! Lo sì! Loro andranno bene! Loro e sono sempre di nuovo! Io nella А Loro e sono sempre di nuovo! Grazie.